I lavori per quanto riguarda il parco urbano, come abbiamo annunciato le scorse settimane, sono ripresi a pieno ritmo. Parliamo di un contesto di lavoro che comunque si aggira intorno ai 600 mila euro, 600 mila euro che sono stati stanziati in copartecipazione con il Comune di Fano e delle risorse ministeriali alle quali abbiamo attinto. È un lavoro che è previsto su tre aree, la prima area è quella proprio di continuità a quello che è l'area dei giochi precedentemente installata e lì stiamo realizzando una pista ciclabile, già è stata predisposta all'illuminazione, tutti i sottoservizi che poi dovranno andare a finire nell'area Anger, quindi che sarà in un secondo tempo lavorata, passano già sotto la pista ciclabile e quindi abbiamo anche quella funzionalità lì. La seconda area invece è quella più avanti, diciamo continuativa alla pista ciclabile, verso via Papiria e in quest'area invece qui stiamo predisponendo la rimozione di rifiuti perché nel momento in cui siamo andati a scavare sotto purtroppo sono state ritrovate diverse macerie che oggi dobbiamo in qualche modo smaltire, quindi quello momentaneamente sospeso in attesa della rimozione. Lì invece sarà predisposta un'area di ristoro con degli arredi, con dell'illuminazione, proprio un'area dove le persone si potranno incontrare, potranno socializzare. Diciamo che adiacente a quella, nell'area di fianco a quello che è il Bosco della Memoria, quindi del Gattile, lì invece proprio questi giorni stanno lavorando per fare il secondo tratto di pista ciclabile, quello che si riversa su, che va a finire su via Confalonieri e anche questo è un tratto illuminato e ci sono delle sedute, delle panchine per soffermarsi, diciamo, durante il percorso. Oltre questo ci saranno degli attraversamenti pedonali illuminati che verranno messi a disposizione nel congiungimento e per preservare la sicurezza delle persone che lo attraversano e ricordiamo che abbiamo proprio in questi giorni terminato la gara della Casa del Parco e che è stata fatta una pre-aggiudicazione, nel senso una giudicazione temporanea in attesa della firma e della sottoscrizione del contratto, per cui i lavori dovrebbero partire i primi di maggio. Naturalmente la cartolina, il biglietto da visita di questo bellissimo spazio verde, polmone che va assolutamente valorizzato dalla città, è una casa che ha una dimensione importante di 190 metri quadri, di cui 170 sono calpestabili e invece i 20 sono proprio sul suo palco, perché ricordiamo che all'interno è suddivisa in tre spazi importanti, tutti naturalmente accessibili proprio perché una delle caratteristiche per cui l'abbiamo migliorata mantenendo quello che invece è la muratura esterna perché da alcune analisi è risultata essere consistente e durevole l'abbiamo modificata nell'accessibilità con una rampa esterna, l'abbiamo modificata nella sismicità perché naturalmente abbiamo fatto degli interventi con delle pannellature in acciaio all'interno per renderla più stabile abbiamo smantellato, smantelleremo nel progetto, da progetto quello che è il tetto facendo un tetto invece con del listellare, quindi di legno, con tutto un rivestimento di pannelli fotovoltaici proprio perché tutta la struttura dovrà abbattere tutti quelli che sono i costi del calore, quindi dell'energia che sono all'interno dello stabile. Questa struttura è sicuramente strategica anche proprio per la socialità di quel quartiere perché ricordiamo che da tanto tempo che ci viene richiesta, è bene mettere a disposizione della comunità uno spazio che venga vissuto al meglio nella lettura, nell'incontro tra persone, in quello che potrebbe essere un'area di ristoro quindi ci sono tante prospettive per quella casa, per riempirla al meglio e restituirla alla città